Ma tu Carolina dentro quella casa vedi tanta falsità? Ma da morire Alfonso. Da morire. Alfonso io sono venuta... Ma chi sono i più falsi? Alfonso allora ascoltami, io posso anche andarmene via oggi, stasera, perché come loro cercano le telecamere e come mi hanno punzecchiato tra Pamela e tra Giaela e anche Le Noir che sta dentro lì... Cioè io cerco le telecamere e ti punzecchio? Non mi interessa, io posso anche lasciare il programma adesso. Alfonso, Alfonso, perché io sono venuta qua per uno scopo, e tu lo sai bene che cosa, io sono venuta qua perché una donna dopo il tumore deve tornare a vivere. Ma questo ne abbiamo parlato anche ampiamente. Sono tornata per questo motivo, quindi allora non si è mai parlato del diritto... Scusa Carolina, Carolina, fermati un attimo, fermati un attimo Carolina. Scusa Carolina, il fatto che la tua presenza nel programma sia legata a quel tema è verissimo. Ok, beh... L'abbiamo trattato... Ma secondo te, dopo un tumore, dopo che mi sono fatta, un sedere così nella mia vita, secondo te vado a litiare con loro e vado a essere una persona falsa. Se magari mi lasci finire di parlare, io vorrei finire di esprimere il mio concetto. È grazie che me lo concedi, eh? Sì, prego. Allora, che tu sia venuta a parlare di un certo tema, lo abbiamo trattato, probabilmente torneremo a trattarlo perché il messaggio è estremamente importante, ma tu vivi anche all'interno della casa. Quindi è chiaro che ti relazioni non soltanto per la tematica che porti, ma anche per le tue relazioni con gli altri inquilini. Grazie a tutti.